Nuovi episodi di violenza e discriminazione nel calcio dilettantistico cilentano, vittime ai due migranti che giocano per l'Alfanese e un arbitro donna di Agropoli. Le gare finite all'attenzione della giustizia sportiva sono due, il match di prima categoria a Ciaroli-Alfanese e quello del campionato junior regionale Golfo di Policastro-Virtus-Cilento. Nel primo caso è successo che nel corso della partita, secondo quanto contenuto nel verbale del direttore di gara, due calciatori, un camerunense, ospite del centro di accoglienza di Palinuro, e un senegalese che vive e lavora a Rofrano, in momenti diversi sono stati offesi e picchiati da calciatori e tifosi della squadra avversaria. Sull'episodio è stata avviata un'inchiesta da parte dei carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania per accertare le responsabilità. Nel frattempo il giudice sportivo ha punito il club di Pollica, dovrà pagare una murta di 500 euro e disputare la prossima gara interna a porte chiuse. Dalla società di Ciaroli hanno fatto sapere che attendono le notizie ufficiali prima di presentare le eventuali contradduzioni. Mentre per la formazione junior a Golfo di Policastro, il giudice sportivo ha disposto tre giorni di squalifica per un baby atleta ed ha sospeso fino al 4 luglio un dirigente. Secondo la FIGC avrebbero espresso frasi sessiste nei confronti del direttore di gara, una sedicenne di Agropoli. I fatti si sarebbero consumati il lunedì scorso sul campo di Policastro durante il match Golfo di Policastro-Virtus-Cilento.